E' la partita più importante della stagione e forse qualche mese fa nessuno l'avrebbe immaginato. Negli auspici e nelle convinzioni anche del club rionata, la sfida col Monza avrebbe dovuto sancire una sorta di primato tra club ambiziosi della parte destra della classifica, pronti a scalare posizioni per arrampicarsi sulla parete di sinistra, quella più ambita e che regala le maggiori soddisfazioni specie a quei presidenti che hanno investito un bel po' di milioni di euro nelle loro creature. Il Monza in salute non ha più di tanto accusato il contraccolpo della sconfitta di misura e non proprio meritata subita col Milan in casa. Prima dello stop contro l'ex squadra di Berlusconi, il Monza aveva infilato otto risultati utili di fila ed in trasferta a una striscia vincente ancora aperta. Occhio dunque a non dare nulla per scontato. Anche per questo, dopo aver parlato a distanza dalla squadra della tifoseria, Danilo Iervolino aveva programmato un blitz di persone almeri rosi. Oggi era il giorno cerchiato in rosso, quello che il presidente aveva pensato e sperato di poter lasciare libero nella sua agenda per potersi dedicare alla questione più urgente. Quella legata alla crisi della serentana che ha cambiato allenatore da poco è sicuramente in ritardo e che ora deve cambiare testa e pelle per poter centrare una salvezza che era data per acquisita e bocce ferme e che sul campo si sta rivelando più faticosa. Del resto, nel calcio niente viene regalato a nessuno, ogni risultato va conquistato e questa è una lezione che anche la proprietà dovrà imparare. La risposta della tifoseria per la gara di Domenica è stata funquittiepida, poco più di 5.000 tagliani staccati, un po' perché il morale è basso e un po' perché il meteo per Domenica non incoraggia. In ogni caso, la serentana dovrà vincere e svoltare. Il momento della verità è arrivato, ora non si può più innugiare. La svolta va servita sul prato verde della Rechi, in casa. La serentana da troppi mesi non sorride, non fa bottino pieno. È iniziata la cuorissima, ma il digiuno Granata deve finire.